Ciao ragazzi, eccoci qui. Questo video vuole fare un po' di chiarezza su quello che è la line up delle racchette dei telai di alta gamma, diciamo così, della Head. Un marchio storico sul mercato da tantissimi, tantissimi anni che ha avuto qualche periodo di declino, diciamo intorno al 2010-2015, ma negli anni a seguire, soprattutto con l'arrivo della nuova linea Gravity a suo tempo, è riportato su il marchio. Tanto è vero che proprio la Gravity l'abbiamo vista adottare da diversi Pro, uno su tutti Zverev piuttosto che Rublev, e questo ha fatto sì che nel frattempo anche altri telai, altri modelli, abbiano subito un revamp che comunque ha portato su nuovamente il brand, che oggi sarà contende con Wilson fondamentalmente per quelli che sono il numero di giocatori principali nel circuito ATP e WTA, dove il numero uno del mondo ormai da tempo è di casa Head, tra Novak Djokovic e Yannick Sinner. Il sunto di oggi l'abbiamo capito, andiamo a fare un po' di ordine e chiarezza nei modelli Head, perché alcuni di voi mi hanno chiesto proprio questo, è una giungla Head tra quelli, i marchi che producono raccate da tennis, che sono più, passatemi in termini, disordinati, ma non tanto per il numero di linee di racchetta, che anche questo è un fattore, ma anche per il fatto che hanno un grado di differenziazione molto alto. Da questo prendo spunto per parlarvi di questa Radical, ma prima di andare avanti mi raccomando, metti un bel mi piace, iscriviti al canale, sostieni la community, trovi tutti i link qui sotto in descrizione. Perché vi parlo di questa Radical e la uso come un esempio? Perché è una Radical Tour, e voi direte, ma la Radical Tour non esiste, esiste solo la MP e la Pro. Bene, Head ne ha fatto una versione particolare, perché Head ha un livello di customizzazione delle propie linee molto, molto elevato, a seconda dei mercati crea delle racchette e dei modelli di racchetta diversi. Ringrazio Tennis Warehouse Europe per avermela fatta provare. È una Radical che si chiama Tour, che ha 305 grammi, piatto a corde, sempre 98, con schema 18x20. Come potete vedere è uno schema molto, molto, molto denso, e vi posso garantire che questa Radical è molto più esigente della Radical MP. Solo 5 grammi, ma uno schema a corde 18x20 la rende veramente tosta. Chiaramente questa Radical è per giocatori che, in qualche modo, anche dal punto di vista del peso, non si possono permettere una Radical Pro da 3x15, che rimane molto più esigente per la sua massa superiore, però devo dirvi che non si percepisce tanto questa differenza, avendole provate entrambe, per il fatto che il piatto 16x19, lo schema 16x19 più aperto, è meno faticoso, mettiamola così. Però ragazzi, questa racchetta ha un controllo eccezionale, e non è che la palla non giri, se tu sai giocare in topspin, la palla gira anche con questa, anzi, si carica di uno spin pesantissimo, e vi posso garantire, quando l'ho usata io, sia quando l'ho fatta provare allo sparring con cui mi sono allenato, mi arrivava una palla molto cazzo, ci vuole però il livello, è una racchetta veramente faticosa. Questo per farvi capire che Head, all'interno delle sue linee, a seconda dei mercati, crea anche dei modelli diversi, quindi questa la trovate da Tennis Warehouse se la volete acquistare, trovate il codice sconto qui sotto, e andiamo a fare ordine. I modelli di casa Head sono fondamentalmente sei, ok? Ho suddiviso per tre colonne, quella da Spin, che è la linea Xtreme, all'interno delle Xtreme ci sono vari sottomodelli, proprio di quest'anno recentissimo l'aggiornamento dove la Tour diventa la Pro, e la Pro da 315 grammi, che era una sorta di MP maggiorata, non esiste più. È stata in qualche modo snellita questa linea, anche perché una Xtreme MP maggiorata da 315 grammi aveva veramente poco mercato. Esistono anche versioni più leggere, più maneggevoli, ed è la linea di racchette adatta per chi cerca spin, potenza facile, proprio recentissima la mia recensione dell'Extreme MP e Xtreme Pro, le trovi sul canale per avere maggiori dettagli su queste linee di racchette. È una racchetta ben riuscita, che per chi viene dall'Extreme modello precedente sarà una transizione molto semplice, non è cambiato tantissimo dal punto di vista del telaio. È una racchetta medio-rigida all'Extreme come linea di racchette. Ho fatto un'altra linea, che è quella delle racchette da controllo, che in casa Head al momento possiamo catalogare in Prestige, ma una storicità unica, così come Radical. E poi la nuova arrivata Gravity, che ormai sono già 5 anni che è sul mercato, e quindi ha già avuto delle rivisitazioni. Tutte le racchette Head allo stato attuale si trovano su Auxetic 2.0, tranne la Radical, che ancora, questo modello corrente, ha da Auxetic 1.0. La versione Auxetic 2.0 uscirà a cavallo tra dicembre e gennaio proprio di quest'anno, ed è l'ultima della linea che ancora non era stata aggiornata. Auxetic 2.0 fondamentalmente introduce la tecnologia Auxetic, poi esattamente non sappiamo di che cosa si tratti, ma Head dice di essere delle fibre che si muovono a seconda della direzione, dell'impatto e della racchetta, sia nel manico sia nel cuore, per maggiore connessione sulla palla, maggiore stabilità. Gravity Radical Prestige linee da controllo, per tutte e tre le linee di racchette ci sono veramente tanti modelli di diverso peso, ed eventuale schema a corde diverso. Mediamente sono racchette agonistiche, tecniche, non adatte a tutti, non le contraddistinguono, diciamo, la facilità d'uso, l'uscita di palla. Sicuramente sono telai che si adattano a dei giocatori magari vecchio stile, con gioco prevalentemente classico, o che sono abituati e vengono da telai molto più pesanti di quando giocavano a tennis da ragazzi, ecco, mettiamola così. Li contraddistingui, ecco, da questo punto di vista. La terza linea che ho creato è quella delle ibride, che racchiude la Speed e la Boom, che sono due linee di racchette per certi aspetti similari per altre, insomma. La Speed è una tutto a fare, è una racchetta abbastanza cicciotta ma di profilo costante, piatto 100, ci sono alcune versioni, diciamo, in termini di peso e di schema a corde. Sulla Boom invece lo schema a corde rimane sempre uguale, ma abbiamo diverse versioni di peso. È una racchetta alla Boom che, a differenza della Speed, favorisce un po' di più lo spin. È una racchetta che vuole emulare le sensazioni di bassa flessibilità, a facilità d'uso e potenza controllata, tra virgolette. Secondo me in casa Head è l'ibrida per eccellenza in questo stato attuale, perché la Speed, definiamo la ibrida, però è pur sempre una racchetta da controllo, che favorisce colpi piatti o semi top, ma comunque un pochino più facile da utilizzare, e quindi questa è la cosa. Diciamo che a differenza degli altri marchi, Head, pur avendo tre linee principali, diciamo controllo, spin e ibride, chiamiamolo così, all'interno ha tanti modelli e sottomodelli. In un altro video vi parlerò di Wilson, faremo lo stesso anche con Babolat e Ionex. Babolat e Ionex, come vedremo, sono decisamente più semplici nella loro gestione, perché hanno solo tre modelli, controllo, spin e potenza, sia Babolat che Ionex. Wilson in realtà invece ha superato Head nel numero di linee presenti, inizia a diventare un pochino tortuoso muoversi anche all'interno di quella struttura. ma ne parleremo in un video nelle prossime settimane, intanto ditemi se questo video vi è stato utile e ditemi qui sotto nei commenti se volete che andiamo avanti anche con gli altri tre principali marchi. Mi raccomando, iscriviti al canale, metti un bel mi piace e al prossimo video! Grazie!